ciao amici oggi andiamo a recensire questi auricolari bluetooth 5.0 allora questo è il prodotto che abbiamo acquistato eccolo qui lo troviamo dentro questo scatolino no gli auricolari sono esternamente a qui vi sono il cavetto di alimentazione con gli onnipresenti adattatori in plastica che vanno attaccati vicino a o vanno sostituiti a seconda dimensione del nostro orecchio all'auricolare c'è il cavo di alimentazione alimentazione di cosa del power bank che va a contenere i nostri auricolari questo è il power bank vediamolo un secondo lo possiamo chiamare power bank ma anche custodia eccolo questo qui ah bello il fatto della presenza di questo display display che ora ci funziona in pratica lo scatto nel momento in cui lo aprile si aziona il display ti dice la quantità di carica che è presente all'interno del nostro caricatore e poi l'auricolare va inserito ecco l'auricolare c'è anche la non soltanto ah ti dice in pratica non mi vorrei sbagliare prima di dire una fesseria ah eccolo non lo stavo dicendo guardate che bellezza cioè voglio mettere a fuoco la telecamera oltre a dirci quindi a visualizzare la carica del power bank ci dice anche a che punto è la carica dei singoli auricolari avete visto no eh classico segnale che ritroviamo anche sui nostri eh cellulari veramente una buona una bella idea questa che hanno utilizzato per poter vedere anche a che punto è la carica dei nostri auricolari anche in relazione a le dimensioni ma anche la robustezza di questo prodotto c'è poco da dire è fatto abbastanza bene poi è molto piccolino maneggevole può essere trasportata molto facilmente ora c'è soltanto da capire la qualità di questi auricolari quindi in relazione a la qualità del suono questi hanno anche il microfono incorporato quindi anche in relazione a eh come riescono a sentire chi è dall'altra parte del telefono e niente ora faremo queste prove e poi come facciamo sempre vediamo una valutazione da 1 a 5 stelle intanto vi ringraziamo per l'attenzione che ancora una volta avete mostrato e niente ci vediamo presto grazie a tutti